Si è tenuto ieri, al Teatro della Casa della Comunità di Nago, il convegno Parkinson Ospedale e Territorio, organizzato dall'Associazione Parkinson Trento in collaborazione con il Comune di Nago Torbole e in particolare con il supporto del Vice Sindaco Luigi Masato. L'occasione era quella della giornata nazionale del Parkinson. Si è trattato di un incontro di livello nazionale, con la presenza di relatori provenienti da diverse unità ospedaliere italiane. Dopo una fase di dibattito scientifico, i circa 130 partecipanti hanno pranzato all'interno del bocciodromo del paese, trasformato per l'occasione in un elegante ristorante dai volontari della Bicinago, mentre i ragazzi dell'Istituto Alberghiero di Riva si sono occupati del servizio. Nel pomeriggio due concerti. Prima si sono esibiti gli Abie Salba, danza terapia contro la malattia su musiche popolari di Trentine. In seguito la scuola musicale Altogarda, che ha portato sul palco i grandi successi napoletani. Nel pomeriggio due concerti. 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 Nel pomeriggio due concerti.